E' male la liquida stiva in basso che paga un po' troppo e perde in classifica anche da contador, sul quale era guadagnato secondo i preziosi. Ci aspettavamo di fare qualcosino meglio, però io credo che così non sia sicuramente una tappa importante di questo tour, però non bisogna farne un dramma se abbiamo preso qualche secondo di troppo.